Siamo a Lecce, al Chiostro dei Domenicani, dove si sta svolgendo la settima edizione di FoodExp. Il tema di quest'anno è DNA, il DNA e cioè le origini e le contaminazioni della cucina. Quest'anno abbiamo un nuovo tema dedicato alle origini, il DNA, quindi tutto quello che è l'identità di questo prodotto turistico che confluisce all'interno di un progetto imprenditoriale. FoodExp oggi raccoglie i contenitori dell'impresa turistica alberghiera all'interno per poi settare un progetto dedicato alla formazione e alla conoscenza. FoodExp non è solo food, ma anche mixology, accoglienza turistica e per quest'anno tantissima attenzione anche nei confronti della formazione. È un progetto dedicato alla Zersale che riesce a contaminare, riesce a portare la conoscenza all'interno di alcuni contenitori dove possiamo continuare a raccontare il nostro mondo.